musica 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 ragazze e ragazzi eccoci qua su ades continuiamo insomma a fuggire anche se ormai è un'abitudine è un'abitudine ed è anche un lavoro a quanto pare l'arco l'ho preso il momento l'ho preso mi forse ho aggiunto qualcosa qua a vedere gli estremi rimedi cosa vuol dire ecco adesso devo mettere calore 10 per poter ottenere ricompense con l'arco ma ah vedi posso posso spingermi oltre ok e io metto estremi rimedi 4 dai ah ma estremi rimedi è proprio ok quello dei boss quindi forse cambiano ancora i boss mettiamolo ci manda 13 così io starai così stiamo così eh si si stiamo così tentiamo la fuga allora offriamo ok 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 questi sono i dialoghi che dobbiamo sentire esattamente siamo sulla strada giusta allora eh prendiamo lo scatto tonante ok ok che la volta scorsa non l'avevamo ma ce l'abbiamo fatto ovviamente ok 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 mi da anche dei soldi allora io cambio benissimo 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 ok 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 offriamo ok 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 Enjoy there on Olympus, Lady Demeter. Thank you for all your help. A conscientious gift, my little sprout. And I am grateful for your generosity. A bit of nectar cut straight through the cold, I say. I don't suppose... No. It is nothing, little sprout. It's just... I hear such wicked rumours now and then about my daughter. Oh, scusa. Pensavo che aveva finito prima di svanire senza lasciare traccia dall'ultima frase. Convinto che avesse finito. Allora. Prendiamo... Gli effetti di guarigione sono più efficaci. L'attacco speciale può raggelare i nemici. E nulla di che, francamente. Però prendiamo questo. È cibo per l'anima. Possiamo pescare. Attenzione. I know you're out there, fish. Ok. Ci ha messo un po'. Fa vedere. Sì, sì, scelgo... Si può. Ok. Attena va bene. Speriamo... Non venire presi, va. Let's see if you're as skilful as you think. I do like a challenge. Who's next? Bene, andata bene. Ok, offri, offri. Allora. 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 I have a simple token for you, goddess. Although it's insufficient, thanks for all the age you've given me. You are most gracious, cousin, to extend this offering. You honor me. Yet I would ask you think of your well-being for the time, not mine. Why, you wield Koronacht the Heartseeker. I never took you for an archer, though the power of that bow is undeniable. Use it wisely. La voglia. Si è rivelata l'arma migliore, guarda. Allora, prendiamo... Fendente divino, dai. Tra questi prendo il nettare. Ok. Eeeh, bombe. Ok. 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 Chiave. Va bene la chiave, dai. Ok. 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 Ok E mi ridà Ok mi ridà Va bene Allora Demetra Abbiamo giudato il nettare a lei Qua c'è la porta del caos Io andrei invece da carote dai Allora No mancano 5 monete Ma si può Non c'è un Un vaso qui Se no avrei preso il martello E niente Vabbè Ma lui sa tutto Ma non parla Ok niente Non prendo nulla Non prendo nulla No sto guardando se c'è qualche Baule Qualche vaso d'oro Nascosto Ma non ce n'è Niente Andiamo avanti Oh oh Ahia Ok Prendiamo Ecco Arrabesco divino Che è più utile Va bene No Oh 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 Ok Allora abbiamo il pozzo Ancora la tenebra No basta Aspetta Cambiamo la ricompensa Sì dai La chiave così mi ridà Il quadro del fatto Allora Ok Abbiamo il potenziamento Direi che mi va bene Quanti? Come così Ok Potenziamo lo scatto Abbiamo Zeus e Athena Eh scelgo Anche se Tanto a loro non le posso dare Quindi scegliamo loro C'ergo Zeus prima Ovviamente Allora Scossa di ritorno Sì scossa Quale tue set in fin d'anno Non era più ampia È epico questo No no facciamo scossa di ritorno Anche se è di livello base Non è semplicemente scegliere un favorito senza spargare l'uno di noi A ritorno No Quindi è così Non è colpa mia Donna Orca Non sono troppi Eh fatto male Ok Ok Ma non imparate mai Allora Facciamo Le probabilità di spingenti Lasciano i nemici scoperti Dai Andiamo da Caronte Ah Ok Allora Ma a me Francamente Non mi interessa Beh dai Mi prendo giusto la vita Dai Va bene E me ne vado E me ne vado Hello fury sisters Ready sisters What's the matter Zacharias You look a bit uncomfortable Something you want to say to me Or any one of us Well it's just There's something that I wanted to discuss with you at some point Meg But after more consideration I'm thinking maybe now is not the time I understand entirely You should know my sisters and I keep no secrets from each other anymore Isn't that right sisters Non hanno risposto però I don't I'm sorry Final I don't I don't I don't Non mi ha detto... ...d'essere! ...Blood and Darkness! ci provi sempre adesso è un bel po' che non ricevo una sconfitta all'inizio ormai allora scuriamoci cambio ok cambio movimento metto il bocciolo di melagrana no non mi conviene direi che posso non c'erà qualcosa magari no ok cambiamo cambiamo le compensa va e le gemme cambiamo vabbè la chiave ok va bene c'è un po' ok ok vado eh cazzarola vedi eh lo so rinuncio ad artemide ma vado a prendere il martello eh mi serve sperando in un potenziamento buono però artemide dovevo dare il nettare vabbè speriamoci ricapiti magari speriamoci perdona e niente mi sta facendo malissimo cavolo ok allora e non c'è quello che mi interessa il tuo attacco infligge 150 danni ai nemici vicini scoccata brucia pelo il tuo attacco speciale infligge più 3 danni base facciamo il centro perfetto mettere va bene ok 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 non vedo niente ok qua abbiamo oh le gemme non mi interessano andiamo ad artemide ok 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 perfetto ok 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 credo che potresti divertirlo su olympus c'è... molti fiesti qui, credo e... l'air è caldo e crisp e... è molto brillante che l'altro sembra come un sogno, certo? cambiamo eh ma che palle però... c'è capita sempre eh vale aia aia oi basta andate via pietra chi manca? ok ok qua c'è il bozzo io quasi quasi eh si carico un po' di vita ah... e... e no vado da... e oridice si 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 fa vedere il suo... ah... era solo a uno magari per completare la sua quest devo darle... vabbè abbiamo quanto? sei netta ci lo possiamo permettere dai posso? ok grazie grazie ok 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 per vedere quanto tempo sei qui qui se non mi chiedi mi chiederebbe sembra che sei abbastanza abbastanza è un piatto quanto tempo sei qui qui ah... non ho il più più perdono il tempo quando sei in scuola o magari quando non c'è il sole o il sole il sole o il sole o il sole ma sì... va qui che mi prendo ma... offri no... non prendo niente guarda non prendo niente me ne vado bene bene è quella che spara cose quindi non capisco però questi estremi rimedi che ho preso cioè cosa è andato su cosa è andato a influire cioè boh a me sembra tutto uguale ok che continuo eh ok 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 così ne qui lo scudo bene ok ok c'era da pescare o no andiamo su mi ha vinto va bene quello che abbiamo stiamo così allora che c'è qua Atena ad Atena li avevo già dato mi pare di si si abbiamo dei si si gliel'ho dato gliel'ho dato dato a Demetra ad Artemide ad Atena e a Zeus ok sto giro mi ne va bene il putin c'è me next Ok, ok, ok Ok Potenziamo la scossa di ritorno Martello No, quello no, non mi piace Buona stasera falle Ok Ho fatto un po' male No, ecco Allora E niente Tocco infligge 300% danni in un'area Ma si carica più lentamente No Scoccata brucia pelo Tocco infligge 250 danni ai nemici vicini Carica il traco speciale Infligge fino a 250 danni Citata minima ridotta No, facciamo scoccata brucia pelo Andiamo da Caronte Prendiamo La vita Beh, potrei prendere tutto Tecnicamente Qua c'è Artemide, Atena Atena Prendiamo tutto Dai Direi Potenziamo lo scatto Colpire i nemici con i doni elettrici genera una folga raggiuntiva Sì 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 Assolutamente sì E andiamo qua Scelgo 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 Artemide Facciamo Probabilità critico Scelgo 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 ok ho vietatissimo la saetta con l'invocazione a suprema non è servita ecco brava facciamo portamento altero direi ancora Athena e Demetra non posso scendere qua non ho il dado del fatto scegliamo Athena dai Demetra lo sconto era più difficile ok bene ah d'unvocazione a suprema dai vai perfetto dopo aver spinto un attacco probabilmente 20% di probabilità di danno critico sì ok Hermes Hermes dai sciogliamo Hermes no dai lasciamo perdere andiamo da Hermes ok ok va bene ok ok offri a voglia ci è il tempo allora se il ruotacco speciale è più veloce facciamo questo chiave andiamo di chiave va ah a a Sì Sì Ok Ok Beh ha vinto lui Mi dici niente? Ah no Quattro di vita Ho quattro di vita Alteriamo Vediamo Eh dai sì dai Prendo potenziamento va Perché qua ci rimaniamo secchi Eh mi ha preso Vabbè 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 Ok Un po' bordello Facciamo Scossa di ritorno Eh Eh andiamo da Caronte Dai Eh Prendo la vita Vabbè E basta così dai Forza Ok Siamo arrivati Ancora Teseo E Asterio E Asterio E Asterio E Asterio E E E E E E E il mio amico Asterius, vedo ovviamente che sei certo, sei certo, sei certo, sei certo, sei certo! e io sollevamente dico a te davvero, che non dovrei mai rispondere il nostro fratello, e non dovrei mai ascoltare a questo fiend, insieme, ora e sempre! Sì, felice che si è sottile, allora. Ah, papi a ciè! Ma la 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 in the clouds, you shall soon be distraught! Come! Andato! Orca vacca! Ok! RETURN! Pergis! Can I see that full man? Pensavo che attaccava Porca vacca No, mi ha preso Ma guarda te Eh cavo, a sto giro Proprio Non bene Sì, ok Eh non è che ho, beh oddio Lo scatto non è male Fa il suo danno ma non è abbastanza Vabbè Non ho più fughe dalla morte È un po' un problema Un po' un problema Qui non posso prendere niente Ovviamente Andiamo Per i soldi Dai Eh, facevamo più danno Prima Aia Porca vacca Ok, dai Ok Non sputare veleno Grazie Ok 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 No, no Lo scatto Comunque Diciamo I suoi danni Sì Di fama Vorrei fossero di più Ok Ok Questo Dio Aia Aspetta Eh no Non posso attaccare Con lo scatto Qua Lo faccio Guarda Eh Mi sa che ci No Cacca C'è andata male Qua Questo giro Eh sì Questo giro Non ci è andata bene Vabbè Blastore Satos What happened to Hypnos Hypnos non chet Hey Achilles I heard from Lady Artemis Out there It seems you have a bit of a fan in her She wanted me to tell you you're the best She's not mistaken by the way The goddess of the hunt herself said that That's very flattering to hear Good thing she doesn't know I'm all washed By now The memory is of my glory days Ok Acetatus So between us All you're attempting to break out of here Over and over You're now authorized to keep that up Exposing weaknesses in underworld security, huh? Something like that I guess I've gotten pretty decent about escaping from a place that's known for being inescapable That's me keep in touch with the other side of the family I work with you from time to time I have to say I never thought I'd hear you talking about looking forward to working, Zag You feeling all right? Spending too much time on the surface maybe? No, I'm feeling fine I never thought I was much good at anything But if my fated purpose is to be a master of frustrating father's efforts to make everything strictly perfect I think I'm okay with that Well then I'll be looking forward to working with you in a more official capacity Even if we're still supposed to keep it all under wraps For sake of appearances Ok, qua c'è qualcosa di nuovo No Qui Nyx Eh, però se parlano così Eh, non posso darle il nettere Uffa, però Persephone, my queen It has been far too long Although the passing of the time was very kind It is an honor to see you again Oh, please Nyx No formalities between us, right? It's wonderful to see you too, my friend The days there on the surface They were very different But the knights I was reminded of our times together here Good times, I trust Good times, most certainly I try not to remember the others We are pleased to have you back Although it shall be a difficult adjustment for you once again, I fear For all of us Well, having built a little house all by myself up there I think I'm up for anything You know what it's like I do E niente, anche a sto giro salta C'è però Eh sì, e là Tell me something, boy Zagrius Why did you do all this? Return the queen Go to such lengths At a certain point You must have learned the way I felt about her Yet still you persisted If I were you I'd not have done me any favors I didn't often stop to give it much thought I just knew I needed to find her And then as soon as I did I knew I needed her in my life In other words, doing you any favors was never a priority, father Just ended up that way, I guess I see I appreciate your candor Nevertheless I thank you I do not know how you accomplished what you did But know that I'm grateful for the outcome Even if I fail to act like it Most of the time You're welcome Eh Ma dai Guarda Mi ha sbloccato anche il Va bene Sui cuori Cos'è? Autorizza da riproduzione di beni musicali dall'archivio Leggio di corte Ok 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 Ah c'è Meg Ah Va ad Ambrosia Gliela do Ambrosia You know the penalty for attempting to sway an overseer of the house of Hades with foreign contraband, don't you? I can't entirely say I do Though if it involves lashings and whatnot I already get more than my share of that So figured I would take the risk So what do you say? I say hand over the damn bottle I'll see that it's disposed of properly Now as for you You wouldn't know who misplay something like this, would you? All my authority as overseer Hang on to it Though if you tell so much as anyone Che mi ha dato? Wow I'll cherish her Compagno Pippi Ok Aspetta I never thought I'd see the queen again I still can't quite believe she's back And staying Is that really your doing? It's her doing, not mine So you know her Because you could have told me About her If she was to me I don't know her all that well But I do know Nyx And I've been bound to secrecy As part of my oath to this house I flay Oathbreakers and liars Sagrius Wouldn't do for me to be no better than them now Would it? No, I suppose not So what does this mean for Nyx Now that she's back? Or for you, for that matter? The queen always gave Nyx her space Your father though I don't know what it'll be like for him If she decides to stick around this time Hope to find out Ok Quindi l'Ambrosia Si va data Diciamo quando sblocchi Un determinato punto Della storia personale Le puoi dare l'Ambrosia Per aumentare il legame Va bene Ehm Aha Dammi un po' di nettare No, no Sei Ambrose Va bene Ah, però Con 25 di tenebra Si Ecco Ok Ok Controlliamo Non c'è niente di diverso Lo sei il compagno Pippi Scusate Qui niente Io controllo Ma A A Beautifully Decorata Subtly Enchanté Ball Contra Traces Of The Hapless Princes Past Attempts To Fleer The Underworld Now Accents A Particulary Cluttered Corner Of His Room Niente Acqua brilla Cosa c'è Cosa c'è Cos'è La tua richiesta D'aiuto Infligge 2500 danni Informazione lineare A partire dal nemico Più vicino Richiesta d'aiuto Premi LT Per ricevere Aiuto Da un amico Una volta Per incontro Utilizzi Massimi Uno Per fuga Fai un'offerta Per salire Di grado Ah Ah così posso usarlo Due volte Ecco Anche a cosa serve L'ambrosia Eh se non l'avessi Scambiata A quest'ora Avrei Trenta unità Probabilmente Ah ma poi Aspetta L'ho visto C'è un altro oggetto Mancante Ancora Un altro Non ci avevo Fatto caso Ah giusto Quello di nostro Padre Eh sì Manca lui È vero È vero Manca lui In teoria Adesso l'abbiamo Sbloccato Vabbè No Tengo Sì Il compagno Pippi Mi equipaggio L'anello di Zeus Così adesso Lo incontriamo subito E gli do Il nettare Va bene Va bene Qui Eh no Ne ho tre Manca Manca Quello Va bene Niente Ritentiamo No Non No Non No 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 Grazie a tutti.